Per trovare i regalini Per trovare il tesoro Si è un po' bagnata perchè la bottiera va bagnata E' perchè stava da tanto E' dai pirata E' per trovare un po' Tutti questi inizi devi trovare Tutte queste cose Che bello Poi vedremo Come possiamo fare Dobbiamo scoprire Cos'è sono qui? Sì, te ne devi andare Bella Bella La scanne No No Vieni 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 Faccio una chiave magica Aspetta Cristiano deve aprire, lui deve andare avanti Cristiano. Vai tutti insieme. Uova del nonno dove sta? Uova del nonno. Dove le fanno le uova e le galline? Andiamo a vedere se la trovi. Se trovi l'uovo del nonno. Cosa? Cosa? Lo prendiamo? Questo è il regalo di Michele Lorenzo. C'è il biglietto. Apriamolo. Sì. Se lo apriamo, vediamo. Qui c'è l'opera. Guardate quello. Questa era un lego. Questo cos'è? Questo cos'è? Wow! Un temperino, le mattine, la gomme qua dentro. E' bello. Non toccate. E' bello. Ma cosa tocchi? Qua è verde, non è come il mio verde. E' nuovo. E' nuovo. E' per noi. E' più bello. Allora, adesso dobbiamo arrivare a questa parte qua della mappa. Vediamo il biglietto. Vediamo il biglietto cosa dice oggi. Il numero 3. Bravo. Il primo passo è stato fatto. Ora, se sei un bravo cuoco, vai dove il dolce si può infornare. Dove sta il forno qua? Andiamo a cercare il forno. 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 Forno, forno. 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 ho trovato la mappa a terra albero il numero 3 ha trovato capiamo il regalo vediamo vai tira forse straccia tutto vai come ne scaccia un totto no che cos'è? che cosa sarà? una bottiglia di pirati chi lo sa abbiamo vediamo 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 che fa le forme di stella e di cuore è venuta dallo spazio no facciamo i dolci facciamo i dolci allora vediamo cosa dice il biglietto? non sappiamo se sai zappare sai zappare? si ma la moto zappa del nonno sai provare? sai provare la moto zappa del nonno? si moto zappa moto zappa moto zappa ecco 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 un altro seguito dai l'aria dai l'aria apriamo i regalini qua pegalinò, 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 pegalinò vediamo il quattro inizio, quattro, non dobbiamo fare questo le carriole 70 butta tu vuoi trasportare dove c'è la carriola dove c'è la carriola prendilo 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 bravo bravo un biglietto a Zaini vediamo cosa c'è un bacone apri regalone 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 la saccabascia che bello che bello che bello che bello che bello bellissimo allora vediamo la mappa dove sta quando bello quattro vieni cinque adesso ok adesso hai detto che sai zappare si e allora se il tuo prossimo se il tuo prossimo regalo vuoi trovare una bomba a buca che devi fare cosa ci vuole fare la buca? e dove la zappa? o zappa z GA zappa z gub zappa Che cos'è? I cappellini Abri, abri, abri Abri, abri, abri Cappellino, cappellino Vediamo se l'era apposta Vediamo se l'era apposta Ci va Ah, tanto sei bella nonna Sei bellissimo Un cucca vero, zia è un piccolo chef è uno chefino quando cucini quando aiuti a mamma a cucinare va bene vediamo la mappa dove sta la mappa la mappa 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 dobbiamo cercare questo ci siamo quasi ci siamo quasi questo è stanco e ti vuoi rinfrescare dov'è che il capocchione devi infilare quando poi c'è acqua si fa ghiaccia dove si fa ghiaccia l'acqua nel frigorifero è vero regalino regalino è diverso però la busta è diversa zia è questa qua no è questa oh oh anche un po' lo abbiamo tanto che non fa lì no no è un costrino questo questo è lunghissimo questo è il cappello vediamo wow è un pantalone giallo è un pantalone giallo che bello il nostro colore si sporca mettiamo qua qui dentro qui dentro guardate là dentro quelli con il giallo oh siamo quasi arrivi a cartesolo dove è la mappa dove è la mappa dove è stato mi dà le gambe se le sono finite da me che notte dove c'è il portone allora alla sfida finale alla sfida finale sei arrivato e non era banale ma se davvero vorrei chionfare davanti al grande portone dovrai andare hai già capito no Christian mi senti dove c'è il buio dei pipistrelli dove c'è il buio dei pipistrelli no 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 perché mi hai toccato il buio perché mi hai toccato come l'ha del buio no Christian ma dove c'è il buio dove c'è il buio dove c'è il buio dove c'è il buio no no dove c'è il buio guarda la mappa Sì, c'è la catturccia! C'è la catturccia! C'è la catturccia! Vai, vai! Traghiamo! Piano, piano, dottorina che c'è la cittura! Tieni qua, c'è il muschio! C'è la catturccia! C'è la catturccia! C'è la catturccia! Tesoro! 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 C'è la catturccia! Ecco qua! Ma dove sta qui il portone gigante? Cristian! Il catenaccio! Dov'è il portone e il catenaccio? Griglia! Regalone! Regalone! Regalo del nonno! Cristian! Chissà cosa c'è? Chissà cosa c'è? Vincenzo e nonna Cecilia! Vediamo! Vediamo! Non è quello che sembra Cristian! Un costume! Un aquilone! Un aquilone! Vogliamo aprire? Vogliamo aprire? Sì! Facciamo! Lo facciamo volare! È finita Griglia! Hai vissuto! Che felice Griglia! Che felice Griglia! Che felice Griglia! Ma non so se c'è il vento per farlo volare! Ma non so se c'è il vento per farlo volare! Non so se c'è il vento per farlo volare! Ma non so se c'è il vento per farlo! Olliviero! C'è il vento per farlo volare! Che felice! È il vento per farlo! È il vento per farlo! Grazie!